che ovviamente porterà una novità nel Dipartimento, se mi consentite non nel Servizio Nazionale di Protezione Civile, il Servizio Nazionale di Protezione Civile è quello di ieri, uno dell'altro ieri sarà quello di domani, cambia di cambiato e cambierà un pezzo importante che è il Capo del Dipartimento, però certamente il servizio, le problematiche connesse col sistema di protezione civile, con il nostro Paese, con le nostre fragilità sono le stesse identiche di ieri e dell'altro ieri, probabilmente anche di domani. Ovviamente ci approccieremo alle problematiche nella logica della perfetta continuità, chi ha seguito il sistema e il il Capo del Dipartimento uscente, il Prefetto di Roma, sa che la conduzione fino ad oggi del Dipartimento è stata una conduzione lineare, chiara.